Ciao a tutti, e benvenuti in questo nuovo video. Per la prima volta, si svela un momento di intimità tra Umit e Demir, e non finisce qui. Fikret dichiarerà di provare qualcosa di forte per Mushgan. Siete pronti ad immergervi in queste emozionanti puntate piene di colpi di scena? Iniziamo. Durante un pranzo con Demir, Zuleya ripensa a una misteriosa lettera che ha letto, quando Fekeli si avvicina e svela il desiderio di far incontrare Adnan con Kerev, rivelandosi fratelli. Loro accettano la proposta, poi Zuleya consegna una busta a Demir, affermando di averla trovata sulla sua scrivania. Demir, aprendola, rimane sconvolto, mentre Fikret osserva dalla distanza. Prima di continuare, se ancora non l'hai fatto ti chiedo di lasciare un mi piace e di iscriverti al canale, grazie se lo farai. Ricominciamo. Nel frattempo, Umit, dopo essere stata ammonita da Fikret, torna a casa e manipola un tubo, facendo fuori uscire una grande quantità d'acqua, prima di allontanarsi tranquillamente. Demir e Zuleya si ritrovano lungo le rive di un lago, e Demir esprime dubbi sulla veridicità della lettera, chiedendosi come qualcuno abbia potuto entrare nel suo ufficio senza essere rilevato dalle telecamere di sicurezza. Sospettano che qualcuno voglia disturbare la loro vita, notando anche la lapide rotta del padre di Demir. Zuleya gli chiede se la lettera potrebbe essere vera, ma Demir lo nega, sottolineando che chi l'ha scritta voleva solo convincere suo padre a riconoscere un figlio illegittimo. Concludono che la motivazione potrebbe essere legata a denaro e proprietà, ma anche all'onore del padre di Demir. Decidono di scoprire chi sta dietro a tutto ciò senza coinvolgere Sevda. Nel frattempo, Saniai esprime tristezza per Fadik, che continua a soffrire a causa di Rashid. Ghaffur le ricorda di aver avvertito che Rashid non era affidabile, soprattutto dopo essere scappato prima del matrimonio. Saniai fa notare che Ghaffur aveva comprato un anello di fidanzamento per Fadik, ma lui rivela di averlo fatto solo per avvicinarsi fisicamente a lei, senza intenzioni serie. Nel frattempo, Fadik è con Sevda, che cerca informazioni su Rashid, ma senza successo. Fadik si rende conto che Rashid non la voleva davvero sposare, mentre Sevda le fa notare che lui ha perso una ragazza straordinaria. Saniai e Gulten sono nella loro villa, pulendo e sistemando le cose, quando Fadik le raggiunge e racconta della ricerca di Sevda per Rashid, senza trovare traccia di lui. Saniai si preoccupa per Rashid, ma lui sembra averla abbandonata. Le donne la abbracciano e cercano di consolarla. Poco dopo, a casa nella villetta, arriva anche Mushgan. Dopo aver scambiato congratulazioni con Gulten per il matrimonio, comunica una brutta notizia. Rivela che la villetta è l'unica eredità rimastale da Ilmaz e, poiché non può vivere nella casa di Fekeli, si trasferirà lì con sua zia. Questo significa che Gulten dovrà andarsene. Saniai spiega che Gulten è stata sistemata e vive lì da due giorni, mentre lei e sua zia hanno una casa propria, chiedendo a Mushgan chi la manterrà. Saniai le domanda se stia giocando con le loro vite, ma Mushgan si rivolge a Gulten dicendo che le dispiace, ma deve lasciare la casa entro una settimana. Poco dopo, Chetting rientra a casa e viene informato che Mushgan e sua zia si trasferiranno nella villetta, poiché Beis non va d'accordo con Fekeli e ha dato loro una settimana per lasciare la casa. Chetting chiede se Fekeli ne è a conoscenza, ma Saniai risponde che se lo sapesse, non avrebbe mai permesso loro di cacciarli. Chetting vuole parlare con Fekeli, mentre Saniai intende discutere la situazione con Zuleia. Tuttavia, Gulten le ferma, sottolineando che non volevano quella casa, ma Ilmaz aveva insistito. Decidono di non parlare con nessuno e di trovare un nuovo posto dove vivere, altrimenti Beis non li lascerà in pace. Nel frattempo, Fikret è in ospedale con il cugino, a cui confessa di essere innamorato di Mujgan e di averla baciata, anche se sapeva che era sbagliato. Si rende conto che non può vivere senza di lei. Il cugino gli dice che non c'è nulla di male, dato che Ilmaz non ha mai amato Mujgan e stavano per divorziare. L'unica preoccupazione è come reagirà Umit, ma Fikret gli assicura che sono solo amici. Umit telefona a Demir e gli racconta del tubo d'acqua rotto che ha allagato il cortile di casa. Non sa cosa fare e non conosce nessun idraulico. Demir le assicura che verrà immediatamente da lei. Mentre Demir si affretta a uscire, dice a Zuleya che non cenerà con loro e di non aspettarlo. Emin, scambiandolo per Adnan, fa un commento suggerendo che, sotto la scusa del lavoro, Demir trascorrerà del tempo con altre donne, nonostante sia sposato. Demir arriva a casa di Umit, dove lei, fingendo di raccogliere l'acqua che fuoriesce dal tubo danneggiato, lo accoglie. Appena entra nel cortile, Demir chiude la valvola e ferma il flusso d'acqua. Umit lo ringrazia e lui le assicura che il giorno successivo manderà un idraulico e una donna per pulire la casa. Allora, con gentilezza, Umit prega Demir di accettare un caffè come segno di gratitudine. Quando Demir entra in casa, nota una foto di sé con Sevda vicino al telefono. Demir fa un commento su come Sevda debba averla dimenticata, ma Umit gli chiede di lasciarla lì perché le piace. Demir, seppur perplesso, acconsente. Nel frattempo, quando Fikret torna a casa, Mushgan si mostra fredda con lui. Fikret le chiede il motivo, e Mushgan risponde che non riesce a fingere che tra loro non sia successo nulla, anche se sa che lui non la considera nulla di speciale. Fikret ribatte che il suo comportamento lo fa soffrire, ma è troppo tardi. Sevda, nel frattempo, prende in giro Zuleyya, suggerendole che dovrebbe finalmente ammettere di aspettare sempre Demir. Zuleyya nega, ma Sevda le chiede per quanto ancora pianterà fiori sulla tomba di Ilmaz. Zuleyya risponde che ha amato Ilmaz per tutta la vita e non può mancare di rispetto alla sua memoria. Sevda le fa notare che Ilmaz è morto, e lei è ancora giovane e merita di essere amata. Le dice che Demir è suo marito, ed è normale amarlo, aggiungendo che non deve sentirsi in colpa verso Ilmaz se vuole essere felice per se stessa e per i suoi bambini. Nel frattempo, Demir è con Umit, che lo guarda con occhi pieni di desiderio. Lui le restituisce gli sguardi. Demir si alza per andarsene, ma Umit lo prega di rimanere, confessandogli di aver sognato quel momento da quando lo ha visto per la prima volta. Si avvicina a lui, gli accarezza il viso e lo bacia. Nel frattempo, Fikret confessa a Mujgan che soffre quando è lontano da lei. Mujgan gli chiede di non allontanarsi, e lui le confessa di pensarla da quando l'ha baciata. I due si avvicinano e si abbracciano. Mentre Demir si stacca dal bacio con Umit, lei gli chiede di non rovinare quel momento tra loro, quindi si baciano di nuovo e si abbracciano. Più tardi, quando sono abbracciati sul letto, Demir riflette su Zuleya e sui momenti trascorsi insieme. Nel frattempo, mentre Zuleya non riesce a dormire, Cetin e Gulten preparano le loro cose per lasciare la casa. La mattina successiva, Demir dorme nel letto di Umit, mentre lei lo osserva. A Villa Yaman, è l'ora della colazione, e Sevda, non vedendo Demir, dice a Zuleya che andrà a svegliarlo. Tuttavia, Zuleya le risponde che Demir non è tornato a casa quella notte. In quel momento, Demir torna e Sevda gli chiede dove sia stato e perché non l'abbia avvisata. Demir, imbarazzato, risponde che non ci ha pensato perché era con gli amici. Zuleya, sorridendo, gli dice che è tornato in tempo per la colazione. In un momento in cui Sevda resta sola con Demir, gli racconta che Zuleya era molto preoccupata e triste per lui, e che non ha dormito aspettandolo. Demir è molto sorpreso e incredulo. In quel momento, arriva Sermine e informa Zuleya che quella sera si terrà un'asta di beneficenza con gli oggetti appartenuti ad Ankar. Nel frattempo, a casa nella villetta, Saniai sta aiutando Gulten a imballare gli ultimi oggetti e le dice che non capisce come Mushgan abbia potuto cacciarla di casa solo tre giorni dopo il matrimonio. Gulten le assicura che va tutto bene perché Cetin ha trovato una casetta per loro due, che le piace molto, ed è meglio così perché non dipenderanno da nessuno. Poi, Gulten abbraccia Saniai e le dice che se avranno problemi di soldi, potranno rivolgersi a lei. Sermine si siede per fare colazione con loro e rassicura Zuleya di aver già ordinato il rinfresco per gli ospiti entusiasti di possedere qualcosa appartenuto ad Ankar. Demir si unisce a loro e commenta quanto sua madre abbia lavorato per gli abitanti di Kukurova, continuando ad aiutare anche dopo la sua morte. Zuleya informa Demir che sta organizzando personalmente l'asta in collaborazione con l'Agenzia per la protezione dell'infanzia, e i proventi andranno a questa associazione. Demir la loda per la sua iniziativa. Nel frattempo, Gulten e Cetin, con l'aiuto di Saniai e Gaffur, finiscono di sgomberare la villetta e se ne vanno. Quando Zuleya chiede a Saniai dove sia stata, lei racconta una bugia per accontentare Gulten. Quella mattina, quando Mushgan va in ospedale, è molto sorridente e cordiale. Anche Demir è in buon umore tanto da fare un complimento alla sua segretaria. Successivamente, telefona a Umit, chiedendo come sta e se ha dormito bene. Le dice che quella mattina arriveranno a casa sua sia l'idraulico che una signora per pulire, perché vuole che lei si senta a suo agio. Umit ringrazia Demir per essere sempre disponibile quando ha bisogno di aiuto. Demir le chiede quando possono rivedersi, e Umit flirta un po' con lui, dicendogli che dipende da lui perché è una donna libera. Demir le risponde che anche lui non ha nessuno a cui rendere conto, e Umit gli propone di rivedersi il prima possibile. Alla fine della telefonata, entrambi sono sorridenti. Nel frattempo, Base telefona a Mushgan mentre è al lavoro e le dice che non può sopportare di vivere nella scomoda casa. Mushgan le chiede di pazientare per una settimana, ma Base le chiede di assicurare che la libereranno. Altrimenti, la avverte che, se non se ne andranno, brucerà tutto. Poco dopo, Chetín si reca in ospedale e raggiunge Mushgan mentre sta parlando con il dottore e il cugino di Fikret. Chetín mette le chiavi della villetta sulla scrivania senza rivolgerle la parola e se ne va, anche se lei lo richiama. Nel frattempo, Sermin e le amiche del comitato di beneficenza stanno organizzando la serata e mettendo in esposizione i vestiti di Ankar. Li ammirano, li commentano e dicono che Ankar era la più elegante di tutto Kukurova. Poi elogiano Sermin per il lavoro che sta svolgendo, e lei si vanta di essere una Yaman e che Zuleya si fida di lei, quindi farà del suo meglio. Mushgan corre a casa da Beis e le dice che possono andare alla villa. Beis è entusiasta e pronta, ma Mushgan le dice che è triste per Fekeli. Beis le ribatte che non ha motivo di essere triste, e vanno via insieme. Quando giungono alla villetta, Beis dice che spera di non vedere mai più Saniai. Mushgan le comanda di non creare problemi, e Beis le risponde che le sarà facile zittire quei semplici servitori. Poi, quando Beis entra in casa, si lamenta che la casa è molto piccola e deve essere subito pulita. Mushgan le fa notare che hanno lasciato tutto pulito, ma Beis ribatte che devono trovare qualcuno che ripulisca. Poi Beis si preoccupa di dove siano i soldi di Ilmaz e chiede a Mushgan se ha cercato in un certo posto. Mushgan le risponde che nessuno li avrebbe nascosti dove andavano a vivere Gulten e Chetin. Beis le dice che li troveranno solo se li ha Zuleia e li restituirà. Poi Beis accusa Zuleia di aver rovinato le loro vite e il futuro di Kerem, e prevede che rovinerà anche la sua vita. E voi cosa ne pensate? Scrivetelo nei commenti. E se volete vedere come si evolverà la storia scrivete nei commenti. Vorrei il seguito. E presto uscirà un nuovo video. Ci vediamo alla prossima. Ciao.